Buongiorno, buona notte. Quale è la tua opinione per il dibattito che tu hai messo oggi? Beh, è un dibattito che è diverso dal punto di vista. E' un punto di vista diverso dal punto di vista. E' un altro partito che mi chiede a un'altra parte di attraire la juventud. E' un'altra parte di proposta innovativa per il cannabis legal. E' un altro che per attraire la juventud. E' un dibattito che aiutava per arrivare a la decisione che lo vanno a votare al 22? Se mi pensavo che è vero, mi pensavo che ho fatto che lo vanno a votare. E' un'altra parte di cambiare. E' un'altra parte di cambiare. E' un'altra parte di cambiare. Buona notte. E' un dibattito. Quale è la tua opinione per il dibattito? Cosa è un'altra parte interessante. Mi chiede a me lo agusterà un'altra parte di risultato. E' un'altra parte di risultato. E' un'altra parte di risultato. Mi chiede a me di visita di candidato a mettere il problema. ma non è sufficiente per cercare la soluzione di cui ci sono il plan per la gubernazione. Mi chiede, non ho sicuro che dopo il debate per chi lo vota, sì, ho un'autorità, ma non ho bisogno di fare un'autorità e di riscaldamento per avere un voto educativo. La cosa che potrei dire, signore, che è una buona opinione per la quale è il debate? È un gruppo di legge, mi piace, non ho bisogno di un gruppo di opinioni di ogni leader, ma non ho bisogno di un gruppo di legge, ma non ho bisogno di chi lo voto, ma non ho bisogno di un gruppo di legge. Se è un gruppo di legge, un gruppo di legge, il debate di oggi? Beh, è interessante, ho bisogno di una domanda, ho bisogno di un'autorità, ho bisogno di un'autorità, ho bisogno di un'autorità, ma non ho bisogno di un'autorità, ma non ho bisogno di un'autorità. E il debate anche, aiutabili, che è una decisione che lo vota il giorno 22 di settembre? Beh, ho bisogno di tutti i nostri amici, il giudio di Riccardo Cruz, e la decisione è di un'autorità per il settembre. Ok, grazie. Grazie.